La pandemia ha fatto emergere un fenomeno conosciuto da tutti ma che il più delle volte rimane sommerso. Le liti in famiglia e la violenza all'interno delle mura domestiche, fenomeno che prepotentemente è uscito a galla proprio durante la pandemia. Il dato importante che il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso ha riscontrato nel periodo della pandemia è quello di una recrudescenza di episodi collegati appunto alla convivenza forzata tra partner che hanno una situazione di crisi in corso. Il Centro Antiviolenza ha così potenziato il servizio con una disponibilità 24 ore su 24, questo per dare la possibilità alle donne di poter telefonare in qualsiasi momento della giornata. Diventa fondamentale anche il lavoro svolto dai militari dell'arma pronti e preparati a cogliere i segnali lanciati dalle vittime. Il 70-80% di questi reati che avvengono in ambito tra le mura domestiche e in ambito familiari hanno come vittime le donne e già questo insomma è un dato sicuramente importante. Dato ancora maggiormente importante per noi come Arma dei Carabinieri che procediamo per oltre il 70% di questi reati. Per noi questo diventa veramente un settore strategico nel quale operare, nel quale dare una risposta in termini di contrasto ma soprattutto in termini di prevenzione. L'appello di Telefono Rosa chiamate anche solo per farvi consigliare. Il numero lo ricordiamo è 0422 583022. La mail è telefonorosa treviso chiocciolallibero.it I Carabinieri dal 2015 hanno avviato un'iniziativa importante, una stanza tutta per sé, una stanza dove accogliere le vittime. Sono quasi 110 in tutto il territorio nazionale, ne abbiamo tre anche qui in provincia di Treviso, presso le nostre caserme di Oderzo, Vittorio Veneto e Conegliano. E ripeto, sono quegli ambienti che devono favorire questo ascolto e questa interazione tra l'operatore di polizia e chi purtroppo rimane vittima di questo tipo di reati. Molti passi in avanti sono stati fatti per aiutare le donne ad uscire da questo incubo ma c'è ancora tanto da fare. Quello che andrebbe incentivato è la risposta a livello di interventi di sostegno per un percorso di autonomia delle donne che subiscono violenza.